Ciao a tutti, oggi andremo ad analizzare assieme Alienware M17X, un portatile destinato al mondo del gaming e caratterizzato da un impatto estetico al di fuori del comune. La configurazione che ci è giunta in redazione, inoltre, si contraddistingue per la presenza di tre GPU, credendo alla proposta un'interessante soluzione per tutti i videogiocatori appassionati. Andiamo a vederla assieme. Alienware è un marchio molto noto a tutti gli appassionati e in generale a quel tipo di pubblico definito enthusiast. Da sempre dedicata a questa fascia di mercato, l'azienda è stata acquisita non molto tempo fa dal colosso americano Dell. Alienware è così entrata a far parte di una struttura molto più ampia, espandendo di fatto il proprio mercato. Come emerge chiaramente dalle caratteristiche di sistema, la proposta di Dell è stata configurata per riuscire a garantire il massimo in termini di hardware all'interno di una soluzione portatile. In questo senso sono quindi state prese tutte le decisioni durante la configurazione della macchina, dal processore quad core ai due dischi da 512 giga montati in RAID 0, per arrivare alle due schede GeForce GTX 280M in SLI. Il livello prestazionale che la piattaforma è in grado di garantire non ha nulla da invidiare ad un sistema desktop di fascia medio alta. Per evidenziare la bontà del comparto grafico, il vero punto di forza che consente alla soluzione analizzata di andare a registrare semili livelli prestazionali, abbiamo eseguito Far Cry 2 in qualità Very High, andando ad applicare progressivamente diversi livelli di anti-aliasing. La scalabilità registrata consente di poter giocare in modo soddisfacente anche alla massima risoluzione 1920x1200 pixel, con filtro anti-aliasing 4x. Raggiungere i 42 frame al secondo in un simile scenario di testing è pura utopia per la sagrande maggioranza dei sistemi portatili. L'impatto estetico è uno degli elementi che contraddistingue la soluzione Alienware. Non solo un design accattivante, ma anche la possibilità di impostare in modo completamente personale tutti i led di cui il sistema è dotato, sia quelli della tastiera sia quelli posizionati sul pannello superiore. Le immagini, in questo senso, risultano molto più saustive delle parole. Riuscire a formulare delle considerazioni di fronte ad un prodotto del genere è certamente difficile e ambiguo. Stiamo parlando di un esercizio tecnologico ben riuscito e, a discrezione, anche esteticamente di impatto. Alienware conferma la propria vocazione verso il segmento degli utenti appassionati, sviluppando un sistema che dal punto di vista estetico è in grado di risultare accattivante, curato nei dettagli e in grado di gestire in modo più che sufficiente il calore prodotto dai componenti hardware. La nota dolente arriva ovviamente quando si parla di prezzi. Soprattutto in tempi come questi, in cui ogni spesa va ben ponderata, pensare di dover spendere più di 4.000 euro per un portatile. Questo è il prezzo di Alienware M17X, con qualche decina di euro di approssimazione, è sicuramente una cosa alla portata di pochi. Grazie a tutti.